Gesù pronuncia la parola tutte le volte che il suo sacro libro si apre. Pronunzia sempre la sua parola. La sua parola, il libro e la sua espressione è come se egli da lì facesse scaturire se stesso come acqua per andare ad irrigare le anime, a rinfrescare, a raffrigerare le anime. Per di loro non temere. Abbiate la forza, abbiate il coraggio, siate costanti, affrontate i mali nel mio nome. Ogni cosa è possibile. Andate avanti, raggiungete la meta. Alleluia, la vostra meta è il cielo. Correte, andate nel mio nome. Gloria a Gesù, gloria a Gesù. Fratelli, nel nome di Gesù siate sanati. Siate liberati. Nel nome di Gesù abbiate saggezza. E prego che la saggezza venga. Nel nome di Gesù siate fedeli. Credete in ogni cosa. Alleluia. L'amore, l'amore non ha nessun timore, nessuna paura. L'amore crede ogni cosa. E gloria a Dio. Certo, le cose negative che stanno dall'altro lato non le crede. Ma tutto ciò che è in Dio è creduto. Gloria a Gesù. E se l'amore di Dio dimora in voi, voi credete in tutto. E ricevete dalla mano onnipotente del vostro Dio. Gloria a Gesù. Gloria a Gesù. Alleluia. Sono felici di potervi dire che Gesù è qua. Alleluia. E in mezzo di noi. E non per quella grazia che uno come me reca. Assolutamente. Ma per tutto quello che Egli stesso è. Buono. Pietoso. Misericordioso. L'entra l'ira di grande benigna. Perdonatore, salvatore, guaritore. Alleluia, rigeneratore. E tutto quello che voi volete. Egli è. Egli è. Il Signore. Gloria a Gesù. E allora eccoci qua, fratello. Oh sì. Avevo intenzione di leggere qualcosa. Ma che devo leggere? Ditemi che devo leggere. Il Signore ha parlato sin dall'inizio col fratello Luigi. Gloria a Gesù. Senti, disse l'uomo. Non hai bisogno di venire. E poi il mio tetto non è degno di riceverti. Statele là, Gesù. Solo pronuncia la parola ed è fatto. Ed è fatto. Gloria a Gesù. Allora, come è stato detto a qualcuno? Alza dal letto. Sì, salvatore. Sì, salvatore. Sì, salvatore. Sì, salvatore. È avvenuto il bene. La gloria di Dio. Gloria a Gesù. In tantissimi casi. Funziona, fratelli. La parola di Dio funziona. È attiva. È potente. È miracolosa. Soltanto apritele le porte. Apritele le porte. È parola di Dio. Gloria a Gesù. E quando si riceve quella parola? Si riceve Gesù. Perché Gesù è la parola. Abbiamo creduto. Abbiamo creduto. Abbiamo creduto. Abbiamo creduto. Gloria a Gesù. Che l'Eterno trovi spazio. E compia l'opera sua. In ognuno dei suoi figlioli. Amén.